Che è il divino in noi. A che cosa non è soggetta la coscienza costituita? Commento. La coscienza costituita, che è il divino in noi, non è soggetta all'io collettivo di congreghe, di gruppi, di partiti, di organizzazioni. L'io collettivo, che deve difendere e affermare se stesso, non può fare a meno di essere contro altre organizzazioni.